La mia candidatura parte da decine e decine e decine di militanti che mi hanno chiesto di farlo. Una spinta dal basso, quella della base del partito. Da lì è nata la candidatura al prossimo congresso provinciale padovano della Lega di Fabrizio Boron. Il 18 dicembre ci sarà anche lui, insieme a Nicola Pettenuzzo e Michele Rettore, in corsa per la segreteria provinciale del Carroccio. Pongo la mia candidatura sulla base di un'esperienza decennale, di una passione, di un amore incondizionato per la Lega e per questo partito e ovviamente mi candido e ho chiesto agli organi che attualmente la reggono la lista dei militanti affinché io possa avere il diritto di raccogliere le firme per presentare la mia candidatura. Faccio presente che ad oggi nessuno mi ha ancora risposto. Resta il nodo delle liste degli iscritti che ad oggi pomeriggio non sono arrivate ai candidati. È arrivata la convocazione e chiedono la raccolta da un minimo ad un massimo, da un minimo del 10% ad un massimo del 20% degli aventi diritto al voto di raccolta firme. Quindi il calcolo è matematico e risultano essere 950 militanti. Faccio presente che è un numero che apprendo oggi perché faccio il calcolo matematico ma mai c'è stato comunicato. Il modello da seguire per il consigliere Fabrizio Borone è il presidente del Veneto, Luca Zaia. Ho condiviso con lui un percorso lunghissimo e non posso che ovviamente essergli vicino in quello che lui rappresenta come amministratore deciso per il bene del Veneto. Ecco, noi vogliamo rappresentare questo modello di amministrazione.